Buonasera a tutti, buonasera, bentornati sul canale. Il Monza annienta il Milan, il Monza fa fuori il Milan, il Monza mangia letteralmente il Milan. Una piccolissima, diciamo, fiammata nel finale del Milan che ha recuperato un paio di gol, poi giustamente il Monza ha dilagato, ha dilagato, Jovic si è fatto cacciare. Grande partita dei due Carboni, ovviamente i sorvegliati speciali per quanto mi riguarda per questa partita. I due Carboni che, ciò che ha detto Inzaghi, sono nella lista dei potenziali 27-28 che faranno parte della Rosa della prossima stagione. Quindi è ancora più contento perché hanno fatto un'ottima partita contro, diciamo, una squadra sulla carta più gettonata di loro, ma anche sul campo hanno dimostrato di essere più provinciali del Monza. Palladino mi sorprende sempre di più. Palladino ha dato un gioco a questa squadra, Palladino ha svegliato, come si sa dire, i cadaveri che c'erano prima di lui. Ha avuto questa brillante idea di chiedere alla società di Juric, che è stata una sua richiesta, lo sappiamo tutti, ed è stata un'ottima pensata. Juric a Verona era sprecato, stasera ha fatto un'ottima partita, ha tenuto alta la squadra. È stato un ottimo Monza, che comunque non è una sorpresa perché, ricordiamo anche i risultati dello scorso campionato, il Monza ha messo in difficoltà tutte le grandi. Quest'anno non è da meno. E adesso il sorpasso del Milan sulla Juventus dovrà aspettare, perché penso che prima o poi ci sarà, visto come gioca la Juventus nell'ultimo periodo. E niente di che, adesso inizia un altro campionato. Inizia il campionato dell'Inter, che deve soltanto arrivare alla fine, e inizia il campionato di quelle tre, quattro squadre che andranno a giocarsi il posto in Europa. Io terrei gli occhi molto puntati sulla Roma, nonostante i molti punti di svantaggio che c'ha tra le prime due in classifica, ma la Roma, secondo me, potrebbe tirar fuori sorprese da adesso alla fine del campionato. L'Atalanta, l'Atalanta è anche una delle candidate ad andare in Champions per il prossimo anno. Io tra Juventus e Milan, secondo me, una delle due, alla fine dei conti, verrà esclusa. Ma va bene, questo è un mio pensiero. Poi vediamo se il campo mi darà ragione. Intanto, intanto, siamo contentissimi. Siamo contentissimi. Questa giornata di campionato, oltre a darci questa bellissima vittoria del Monza sul Milan, ci ha dato il pareggio del Verona sulla Juventus. Ci ha dato due ottimi risultati. E secondo il mio punto di vista, si può quasi definitivamente parlare di campionato di uso. Ora ci concentreremo sulla Champions. E vediamo il proseguo della stagione. La prossima si va a Lecce. Non è una gara facile, ma non proibitiva. Quindi anche con qualche pedina di turnover, l'Inter ha già dimostrato che può giocarsela con tutti, che comanda lei. La famosa legge del più forte l'abbiamo imposta finora su tutti i campi, e penso che continueremo. Così ci auguriamo che in Champions possa andare. Io ho visto le dichiarazioni di Simeone, che comunque elogia il gioco dell'Inter, che l'ha piazzata fra le prime tre e quattro d'Europa, e sono completamente d'accordo con lui. Ha capito che per loro non sarà una gara facile. E io mi auguro vivamente che possiamo cominciare a mettere i paletti anche in Champions, per quanto riguarda il buon calcio che abbiamo dimostrato da quattro anni a questa parte. Ora ci aggiorniamo al post-partita Champions, se non ci sono altre situazioni in mezzo. Forza Inter, ragazzi, godete, godete, godetevi questa giornata di campionato. Godetevela tutta.